Brutto incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3 e mezzo in via Vecchia Mazzara a Marsala. Tre sono i ragazzi coinvolti, tutti di Mazzara e tutti a bordo di una Fiat Panda. Non si conoscono ancora le cause precise del grave incidente, appunto dove sono stati coinvolti due ragazzi e una ragazza. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che per evitare un'auto proveniente dalla direzione opposta la Panda si sia schiantata prima su un muro, poi è finita fuoristrada e si è schiantata contro un albero di ulivo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i ragazzi bloccati tra le lamiere dell'auto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni dei ragazzi che sono stati trasportati negli ospedali di Trapani e Palermo. Due si trovano in prognosi riservata.